sembra che oggi mangeremo yogurt non è così entusiasmante vero almeno avrà un buon sapore e senza zucchero cosa ha un sapore terribile ma so io come risolvere lo trasformerò in ghiaccioli basta versarlo in questi stampi e la sorpresa ghiacciata ti attende questo è molto più veloce del congelatore è ora di mangiare questo è molto più nel mio stile guarda com'è ghiacciato delizioso mi è venuta un'idea questa roba si è surriscaldata velocemente a volte sottovaluto il mio potere questo yogurt è il migliore in assoluto mi ero dimenticata che fosse calda buona idea questo dovrebbe lenire un po la mia lingua grazie kylie wow oh no tutto quello che tocco si scioglie vabbè sembra che i fiori stiano passendo che peccato erano così belli scommetto che posso guarirli un soffio d'aria ghiacciata li terrà sempre in fiore perfetto e ora l'altro ma cosa sta facendo con quei fiori oh grazie mille sono così belli cosa anche io posso essere d'aiuto quanti vestiti piegherò tutto quanto aspetta ho un'idea migliore non mi serve un ferro da stiro con i miei poteri ha funzionato adesso la stiro tutta ho fatto in un attimo uno fatto e ora gli altri bene tutti i vestiti stirati le verserò una bibita fresca e per renderla migliore aggiungerò del ghiaccio solo qualche cubetto per mantenerla fredda ecco una bevanda rinfrescante cos'è quell'odore? ah i kebab si stanno bruciando fio ci è mancato poco ehi togli quelle manacce non sono per te ti ho portato una bibita fresca penso siano cotti e ora farò un ghiacciolo devo solo raffreddarlo ecco bello fresco e ora il bastoncino lo congelerò un pochino e dentro adesso lo congelerò un ghiacciolo come snack ma non ci si può rilassare senza popcorn ecco qua a scoppiettare bene dei chicchi perfetti li adorerà abbiamo fatto possiamo andare allo spettacolo sì andiamo ho anche stirato tutte le magliette ma aspetta sono tutte bruciate beh almeno ho il mio pranzo ma è tutto bruciato è carbonizzato i popcorn sembrano buoni eh no bruciati forse se bevo mi calmerò ma è un pezzo di ghiaccio ok proviamo il ghiacciolo sembra che questo sia fatto bene troppo freddo sono incollata e anche i fiori si sono sciolti ragazzi solo un'altra ripetizione dai amico ce la puoi fare sì come brucia oh ma guardala vado a salutarla ah qualcuno ha lasciato dei pesi ma per me sono leggeri ehi che si dice chissà che cosa sta succedendo laggiù oh no è ghiacciato cado la maglietta ehi questo allenamento si è fatto interessante scusami che cosa ci faccio con una maglia congelata ottimo tocca a me usare questa attrezzatura wow è davvero difficile ecco perché ha perso il controllo sui suoi poteri oh no è successo anche a me wow si stava scaldando parecchio ups mi sa che è meglio se me ne vado spero tu abbia fame facciamolo cosa dovrei fare con questo è solo una vecchia pannocchia guarda il mio piatto piccoli cubetti di mais scongelati non sono carini chissà se hanno un buon sapore lo scoprirò chi vuole dei popcorn ghiacciati a me piacciono bollenti risolviamo la questione questo trucco sarà fantastico devi solo pensare al calore funziona? alziamolo di un altro paio di gradi adesso cuoce forse non ho regolato bene fatto? beh di sicuro non è venuto come previsto cosa non darei per un microonde? oppure userò questo? blocchiamo il calore funzionerà di sicuro non lasciarlo andare si sta funzionando che profumo delizioso non credo sia sicuro pensi che siano tutti scoppiati wow va tutto bene? credo di certo ho portato un'esplosione di calore mi fa male la schiena di certo non lo rifarò mai più ridi quanto vuoi regina del ghiaccio almeno io ho uno spuntino gustoso sì vabbè ma è stato divertente ma ora tocca a me e? in realtà è abbastanza buono rilassati guarda un po' ne volevo proprio una ma è un po' troppo calda per i miei gusti no ancora troppo calda ora va bene un dolcetto è buono solo se ghiacciato che schifo questa cosa è davvero congelata che cosa ho combinato? oddio la mia lingua è completamente bloccata andiamo ma è normale che si allunghi così oh che botta che cos'ho in faccia? il mio naso? eccellente ma ho le mie cose di cui occuparmi devo assicurarmi che sia caldo mi sta tornando l'olfatto che cos'è? sto cucinando qualcosa non preoccuparti non sta bruciando anzi penso che sia quasi pronto e ora guarda qui quel cosa è abbrustolito beh forse l'ho scaldato un minuto di troppo pensi che sia ancora buono? chi troppo vuole nulla stringe gli orsetti gommosi sono i miei preferiti temperatura ambiente so io cosa fare farò solo una piccola modifica ne metto un po' in una tazza poi aggiungo un po' di calore scusate piccoletti farà caldo lì dentro perfetto e profuma di frutta è l'ora dei marshmallow è come la cioccolata calda ma con le caramelle quasi dimenticavo mi servirà un cucchiaio per questo guarda che bontà zuccherina è così che si mangiano gli orsetti gommosi è così appetitoso vuoi provare? in realtà non sembra male e io so cosa fare Chloe non è l'unica chef da queste parti date un'occhiata a questa ricetta ora la parte divertente dai fa la tua cosa ok liquefazione a caldo completa ora non mi resta altro da fare che versarlo qui dentro forza orsacchiotti una volta che sono tutti pieni inizia l'azione di congelamento non dimentichiamo i bastoncini fatto e ora sfruttiamo il mio potere congelante la temperatura è già scesa il duro lavoro ripaga sempre vero? ne vuoi uno Chloe? come vuoi lo scricchiolio del ghiaccio mi mette i brividi è come una festa di ghiaccio nella mia bocca è come una festa di ghiaccio